Oggi vorrei portarvi un altro veicolo che ho recentemente scoperto sia elettrico ma anche alimentato da delle celle solari, ma che a differenza di Aptera o della SIO Sono Motors di cui abbiamo già parlato in altri video, ha un asso nella manica che le permetterà di entrare nella fase di produzione già alla fine di quest'anno. Sto parlando infatti della Lightyear 1. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi di Lightyear, ma prima di cominciare non scordatevi di mettere già un mi piace e iscrivervi al canale che farebbe vedere questo video a molte, molte più persone. Grazie mille. Questa startup olandese, appunto Lightyear, viene fondata nel 2016 da dei ragazzi che già in precedenza si interessarono alla mobilità elettrica e soprattutto alla mobilità solare. Ma andiamo con ordine. Partiamo infatti da qualche anno prima della fondazione di Lightyear. I fondatori di questa azienda infatti facevano tutti parte di un gruppo dell'università di Handover impiegato nella creazione di un veicolo elettrico e soprattutto solare per competere poi nella World Solar Challenge che sfida le università più importanti ed avanzate al mondo a promuovere l'innovazione delle auto a energia solare, sfinandosi in efficienza energetica piuttosto che in velocità massima come in altre corse. Questa gara si svolge ogni due anni e consiste nell'attraversare il deserto australiano con l'ausilio in pratica solamente delle celle solari. Stiamo parlando dunque di una gara di oltre 3.000 km senza l'ausilio di nessun carburante fossile. E le velocità non sono neanche così ridicole arrivando a delle medie intorno ai 100 km orari. E questi ragazzi che in seguito andarono a fondare Lightyear riuscirono a vincere per ben 4 anni consecutivi questa competizione. Scusatemi già per questo detour ma era davvero necessario per capire le scelte stilistiche e soprattutto ingegneristiche che hanno fatto a Lightyear per costruire poi in seguito la Lightyear 1. Passiamo dunque a parlare dell'auto vera e propria, appunto la Lightyear 1. Quest'auto già a prima vista dimostra la sua aerotenemicità in diversi aspetti, come per esempio la sua linea molto slanciata ma anche banalmente le coperture sulle ruote posteriori che mi ricordano molto la Volkswagen XL1 anch'essa presentata nel 2016 o magari andando un po' più indietro la General Motors EV1 di cui magari potrei parlare in un altro video. Quest'auto è stata resa sicuramente possibile grazie agli studi ingegneristici dei fondatori ma anche grazie al design del gruppo torinese Grand Studio che aiutò Lightyear appunto nel design del veicolo permettendo a quest'auto di avere un coefficiente di aerodinamicità di solamente 0.20. In pratica è come Aptera. Tutto in quest'auto è stato pensato per essere più leggero possibile ed essere più utile possibile. Infatti questo veicolo non è notato nemmeno di un lunotto posteriore per consentire così di avere un'estensione maggiore di pannelli solari fino a 5 metri quadrati consentendo così una maggiore autonomia all'auto. Anche dei piccoli dettagli come potrebbero essere i cerchioni che in questo caso sono chiusi vanno a ridurre al minimo i vortici aerodinamici o magari l'assenza di veri e propri specchietti che in questo caso vengono sostituiti da delle telecamere che non è niente di nuovo ma sono quei piccoli trucchetti che alla fine fanno molta differenza ma probabilmente la cosa più importante era ridurre il peso del veicolo andando così verso il minimalismo infatti all'interno possiamo trovare solamente un tablet un po' alla tesla diciamo e alla scelta dei materiali che vengono utilizzati sia nell'abitacolo ma soprattutto nella scocca del veicolo. Per dimostrare la capacità e l'autonomia di questo veicolo l'ITR decise poco meno di due mesi fa di portare il proprio veicolo al Aldenhofen Testing Center in Germania per appunto testare l'autonomia di questo veicolo. È chiaro però che stiamo parlando sempre di un ovale pertanto non è real life testing ma ce lo facciamo andare bene uscendo con un'autonomia di 440 miglia o 710 chilometri con una singola ricarica di una batteria da 60 kilowattora mantenendo una velocità media costante intorno agli 85 chilometri orari. Questi risultati sono esattamente in linea alle predizioni che l'ITR aveva fatto riguardo all'autonomia del veicolo e questo secondo l'amministratore delegato è dovuto per lo più grazie al più efficiente motore elettrico al più efficiente invertitore e ai più efficienti pannelli solari sul pianeta. Diciamo che probabilmente non è la persona più modesta al mondo. Questo veicolo ha un'autonomia davvero impressionante contando che ha un pacco batterie di solamente 60 kilowattora pur rimanendo una berlina con 5 metri di lunghezza con 780 litri o 1700 litri di bagagliaio con i sedili reclinati che può sedere 5 persone ed avendo tutte e quattro le ruote. E lo so che sembra strano specificare il fatto che abbia tutte e quattro le ruote ma nel video di Aptera la cosa che è stata più puntata nei commenti era il fatto che avesse solamente tre ruote e poteva sedere massimo due persone. Queste scelte ingegneristiche che Aptera aveva fatto come appunto lasciare solamente due posti a sedere o togliere una ruota o fare un bagagliaio che sembrasse più un pick up per poi ricoprirlo di celle solari erano state fatte in modo particolare per aumentare al massimo l'autonomia. Anche perché non ci sono così tanti modi per aumentare il range di un veicolo elettrico. A meno che di non ridurre al massimo il CX o coefficiente aerodinamico, di ridurre al massimo il peso del veicolo e di migliorare il più possibile le componenti interne come può essere l'invertitore, la batteria o magari anche solamente il cablaggio dell'auto. Un'altra cosa molto importante è che la Lightyear One non è un veicolo creato per gareggiare. Infatti ha uno 0 a 100 intorno ai 10 secondi che ai giorni d'oggi sono considerati troppi per un veicolo elettrico pur non avendo nessuno la necessità di andare come un fulmine al semaforo. Ma va bene. Inoltre i pannelli solari posti sull'auto dovrebbero ricaricare addirittura 70 km al giorno permettendo al proprietario della Lightyear One di in pratica non ricaricare mai l'auto. Infatti come dicevo sia per la Sionson Motors che per l'Aptera difficilmente si fanno più di 30 km al giorno. A meno che di non essere un rappresentante. In quel caso si fanno anche 200 km al giorno. Ma quello è un caso particolare. E queste specifiche andrebbero a surclassare quelle di Aptera e della Sionson Motors del doppio. Rimarcando così l'efficienza che sono riusciti a creare nella loro Lightyear One. Ma vorrei passare all'ultimo punto che, come dicevo all'inizio, è il loro asso nella manica. E mi sto riferendo al prezzo e alla quantità di veicoli che produrranno. Infatti ogni singola Lightyear One verrà venduta esclusivamente in Europa alla modica cifra di 150.000 euro. E non verranno prodotti più di 946 esemplari di Lightyear One. Un numero un po' generico, ok? A questo punto fanne mille. Pertanto stiamo parlando di un veicolo particolarmente di lusso. E che, grazie al fatto di essere così costosa, si può permettere di essere costruito praticamente a mano e di garantire la consegna di quest'ultimo. Infatti la produzione dovrebbe iniziare già nell'ultimo trimestre di quest'anno, con le consegne previste per l'estate 2022. E, se ve lo state chiedendo, è possibile anche investire in questa azienda come pre-production run, o prima della produzione. Per poterlo fare, però, dovreste essere cittadini europei, svizzeri o norvegesi, quindi immagino non ci siano dei problemi, ma la minima quantità di denaro che si può investire nell'azienda è 250.000 euro. Perciò fatevi i vostri conti. Per trovare delle indicazioni riguardante l'investimento su Lightyear potrete trovare le informazioni sul sito dell'azienda nel caso vi trovaste con questa piccola cifra dentro le tasche. Grazie mille per l'attenzione. Sto scherzando, sia chiaro. Ora, vorrei dire un paio di parole su quello che penso io di questo veicolo. Quest'auto a me piace tantissimo. È un veicolo esteticamente molto bello ed inoltre permette un'autonomia davvero interessante. Ma non è un'auto per tutti. Infatti, come dicevo prima, essendo così costosa è più facile portarla in produzione e in vendita. Un po' poi come è successo con Tesla e la Roadster, ma in realtà anche molti altri veicoli prima di lei. Ma la vera domanda è ne vale davvero la pena? Vale tutti questi soldi? E la risposta, secondo me, è no. Perché stiamo parlando di un'azienda che è nata cinque anni fa. Ed è vero che comunque sono degli ingegneri di base, pertanto sanno quello che fanno. Ma bisogna pensare anche ad un mercato più ampio rispetto a quello dove l'ITR si trova. Lo sappiamo tutti che le tecnologie si pagano e anche a caro prezzo. Ed è per questo che esiste la produzione in scala, per fare in modo di andare a ridurre i costi per ogni singolo veicolo. Ma ho idea che questo con l'ITR non succederà. Anzi, ho idea che le tecnologie che hanno tirato fuori grazie a queste menti geniali finiranno nel garage di qualche milionario o miliardario e non vedranno probabilmente mai più la luce. Ed è un peccato andare così a buttare queste tecnologie incredibili in un veicolo da 150 mila euro. Poi è sempre la mia idea, ok? Quindi magari mi sto sbagliando di brutto. E lo spero, lo spero davvero, perché io ci credo davvero tanto in questa azienda. Ma forse è un correre un po' troppo per loro. In fondo, come ho già detto, sono solamente cinque anni che esiste questa compagnia ed ha ancora moltissimo da crescere. Spero che un giorno riescano a fare una produzione di massa ed andare così a rivoluzionare completamente di nuovo il mondo dell'auto elettrica. E questo era tutto per il video di oggi. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi di l'ITR e della l'ITR1. Non scordatevi dunque di mettere un mi piace e iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille!